E' tutto pronto per il rientro di Francesco Zambarino, il pugile di Pietra Ligure. Il 3 marzo, nella splendida location del Casino di Sanremo, combatterà nella categoria dei 57 kg contro un avversario ostico, il 31enne Aziz El Guial, che per la cronaca si presenta con 16 match. Francesco dovrà dimostrare che la sconfitta patita nel suo esordio nel mondo pro dell'anno scorso è ormai un ricordo archiviato. Tutto lo staff di Francesco Zambarino è convinto che il pugile sarà in grado di dimostrare le sue qualità di grande fighter. Grazie per la visione!